Splendida struttura settecentesca nel complesso dei palazzi ducali estensi realizzati a Reggio Emilia, Villa d'Este sarà la cornice esclusiva per un matrimonio elegante, raffinato e curato in ogni dettaglio. La villa è circondata da un ampio giardino con folta vegetazione, adatto a ospitare allestimenti in plein air durante il periodo estivo, in una cornice suggestiva che donerà un aspetto esclusivo al vostro grande giorno. Un'elegante e tensostruttura in vetro circondata dal parco secolare potrà accogliere fino a 250 ospiti, mentre le incantevoli sale interne con una capienza di 150 persone vi ospiteranno in un contesto fine e ricercato. Il team di professionisti di Villa d'Este vi accompagnerà con massima disponibilità in tutte le fasi organizzative e fino al gran giorno. Potrete contare su un'assistenza impeccabile, su allestimenti ricercati e su servizi personalizzati per soddisfare al meglio ogni vostro desiderio. Le prelibate preparazioni culinarie della bottega gastronomica attingono dal patrimonio tradizionale della cucina emiliana e reggiana. Gli chef, unendo tradizione e originalità, vi proporranno adeguate e gustose variazioni di menu, affinché possiate lasciare a ogni vostro invitato un delizioso ricordo del vostro giorno più importante.